dunque conservo tutte queste nozioni nella mia memoria e nella mia memoria è conservato anche il modo come le ho apprese e allo stesso modo conservo nella memoria molti falsissimi argomenti contrari a queste verità che ho udito sono completamente falsi ma non è falso il fatto che le ricordo e ricordo molto bene che stabilivo la distinzione tra quelle vere e queste false e vedo che una cosa è il distinguerle ora e altra cosa il ricordarsi di averle distinte quando ci pensavo ricordo dunque di aver capito spesso queste cose e ciò che ora distingo e capisco lo ripongo nella memoria per ricordarmi poi di aver capito ora dunque ricordo anche di aver ricordato e se poi in seguito richiamerò alla mente questo ricordo sarà sempre grazie alla memoria